Mostrare come una fede viene vissuta da culture diverse e allo stesso tempo raccontare gli usi e i costumi di comunità straniere radicate a Rimini da generazioni. Questo è l'obiettivo della mostra Presepi dal Mondo allestita nella Sala della Rengo di Rimini. Gli immigrati non sono solo i profughi che vengono con i barconi ma sono anche cittadini che adesso sono cittadini italiani ma che mantengono vive le loro tradizioni e la loro cultura. 30 i Presepi realizzati. C'è quello del Perù che riproduce le rovine di Machu Picchu, la Cina con la grande muraglia e l'esercito in terracotta e poi i prodotti tipici in ambientazioni che spaziano dalle foreste pluviali alla savana. Una mostra visitata da tanti bambini, da tante scolaresche, qual è il risponso da parte di chi li visita? Che segno vuole lasciare? È proprio quello di far conoscere a loro come il Presepi si può rappresentare e vivere in maniera diversa. D'altra parte nelle loro classi già ci sono bambini che vengono da questi paesi. È bello vedere quando presenti ad esempio il Presepi del Perù, bambini che dicono io vengo dal Perù oppure la mia mamma viene dal Venezuela. E quindi ritrovare qui i Presepi tipici dei loro posti li fa anche un po' emozionare. L'altra cosa è insegnare a loro come una rappresentazione è un racconto, non è solo una cosa da guardare, ma è una cosa da ascoltare noi diciamo con gli occhi perché ogni Presepi è un incontro ed è un racconto, una storia di un popolo, di un paese, di un modo di vivere la fede.